La battaglia delle capre In Valle d'Aosta c'è questa tradizionale, ormai ventennale battaglia delle capre dove si mettono a confronto solo i soggetti femmine. Cosa succede? Animali da greggie bisogna tirar fuori il capo. Il capo come si fa? Nel loro metodo, si scornano. Nello scontro a eliminazione diretta dei due animali messi a confronto che assolutamente non è né cruento né violento, anzi sono gli animali che fanno. Tante volte non avviene neanche perché se un animale riconosce che l'altro è superiore non c'è neanche il contatto. Quindi divise per categorie noi creiamo questi sorteggi e nel pomeriggio inizia questa giornata dove alla fine si incoronano le quattro regine. Essendo una cosa di tradizione è anche un momento di convivialità tra gli allevatori dove tutti insieme è un'occasione per trovarsi, fare quattro chianchiere, scambiare un attimo di opinioni e intanto portare avanti anche una tradizione di questo tipo.